Marco promolla un grande talento, un sogno forse altrettanto grande e un lungo viaggio da intraprendere. Il talento è una voce pulita e imponente, emozionante e coinvolgente. Il sogno è riuscire a fare di questo suo talento una carriera. Il suo cammino è incominciato da diversi anni, anche con il sostegno della Banca Montepruno, con tanto studio e numerosi sacrifici, suoi e della sua famiglia. Marco tra qualche mese compirà 18 anni, ma prima affronterà un viaggio che potrà segnargli la vita professionale per sempre. Un viaggio verso Sanremo e verso il palco dell'Ariston, dove si esibirà con il brano Se perdo te. A poche settimane dallo suo viaggio verso casa Sanremo, Marco, talento pollese, si racconta. E proprio a Polla è nato anche un fan club per sostenerlo. Stasera ho avuto la possibilità di presentare per la prima volta il mio nuovo brano inedito che porterò quest'anno a Casa Sanremo, che è Se perdo te, scritto dalla mia casa discografica on the set di Milano, di Luca Venturi. Ringrazio l'associazione Tempo e Memoria che mi ha dato l'opportunità questa sera di esibirmi per il mio pubblico dei Pollesi, quindi ne sono molto felici di questo. Stasera l'associazione Tempo e Memoria mi ha dato anche l'opportunità di presentare il mio fan club, che è Mark Stentor, e anche il mio CD. Quindi ringrazio soprattutto il fan club che mi stanno vicino sempre per ogni mia serata, ogni mio lavoro che svolgo.